Grazie Presidente, saluto anche il collega Marcato, la ringrazio e le saluto. Mi pare che abbiamo, da quel che colgo, mi scuso se ho perso parte del dibattito la settimana scorsa, ma colgo che c'è una certa convergenza importante su almeno un aspetto del testo, quindi paradossalmente su un argomento potremmo già votare all'unanimità, cioè a tutti piace la parola che in qualche modo razionalizzare piace. Quindi paradossalmente noi abbiamo risolto il problema, abbiamo un millesimo del testo sul quale siamo d'accordo, il resto lo vedremo. E il collega Sinigaldia propone di integrare questa parola con la parola ridefinire e ci potremmo domandare il perché questa parola... Sì capisco che il collega Barato non è molto interessato immagino all'argomento, perché... Importante, ecco sì, perché per sulle vetrinarie dei sacri, la vetrinarie si occupa di caccia, quindi questo argomento indirettamente la vedrà interessato nel proseguo della discussione. Però, non più, però, perché aggiungere nella prima riga del testo, di fianco alla prima parola, se siamo d'accordo, un nuovo termine che è ridefinire. È una parola in più? È una parola che non serve? La domanda che mi sono posto in questi giorni di tranquillità, nella quale ho riflettuto sull'argomento, è questa. Noi abbiamo approvato, quattro anni e mezzo fa, il piano socio-sanitario. Lo ha approvato questo Consiglio? Lo ha applicato questa Giunta? E nella logica degli strumenti di programmazione, tu approvi un piano, è una cornice, la parte seguente a quel piano sono state le schede ospedaliere. la Giunta le propone, il Consiglio le approva, cioè il Consiglio per la parte programmazione e la Giunta per la parte operativa in una logica di sequenza, perché le schede devono stare dentro la programmazione del piano, quindi questo Consiglio ha approvato quelle schede in funzione di quel piano. Piano tuttora vigente. Allora la domanda che mi sto ponendo è se io ho un piano vigente e voglio dentro quel piano vigente con quelle schede razionalizzare forse la parola ridefinire potrei anche non metterla. Ma se uno legge questa legge, fra l'altro stiamo leggendo la legge di oggi, non quella di partenza, cioè questa non c'entra niente con l'azienda zero di un anno fa, è un'altra azienda zero. L'azienda zero elettorale è nel cestino, perché parlava di programmazione che non c'è più. Ma se uno legge quello che va a seguire questo articolo, non stiamo razionalizzando, stiamo cambiando. Cioè noi stiamo con una legge ordinaria cambiando di fatto le schede, perché le schede ospedaliere di una ULS o di una ULS che nel somma tre sono diverse, prescindendo dal fatto che tu non lo faccia nei fatti, ma soprattutto stiamo in modo improprio, a mio avviso illegittimo, cambiando il piano socio-sanitario. Ecco perché questa parola che tenta di mettere, si dice è il taccon sul buso il collega il collega Sinigaglia. Perché razionalizzare rispetto a un piano vigente e rispetto a schede vigenti ha un senso. Razionalizzare cambiando di fatto il piano e cambiando di fatto le schede è un altro argomento. Stiamo ragionando in spregio alle norme, cioè noi stiamo ragionando in spregio alla programmazione regionale che è competenza del Consiglio. Invece demandiamo a successiva razionalizzazione una modifica del piano nei fatti e una modifica delle schede nei fatti. E cito solo una frase, il tempo sta scorrendo quindi poi il resto per il dopo, alla quinta riga del piano approvato si dice al fine di assicurare migliori performance gestionali e assistenziali le migliori non insomma il bacino di riferimento delle ULS è compreso tra i due e trecentomila abitanti fatto salvo le specificità. La domanda è è compatibile quello che stiamo facendo con questa frase che dice le migliori performance se uno più uno fa due noi stiamo peggiorando il nostro servizio sanitario regionale. Grazie 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 Grazie